Allora oggi vediamo gli accordi in La. Allora ti ricordo, nel caso questo sia il primo video che tu veda, che se vai sul mio sito, che è massimovarini.it, eccolo qua, massimovarini.it, ti trovi qua tutti i menu, in basso a sinistra, Songmaker. Aspetti un attimo che faccia il preload ed ecco che ti trovi il Songmaker. In alternativa, quello che invece vediamo qui a tutto schermo, è la versione che c'è all'interno del DVD, del manuale di chitarra volume 1 e volume 2. Nel caso tu abbia un nuovo Macintosh che col sistema Lion non apre il file residente, puoi usare quello in HTML che è sempre dentro il DVD, quindi è molto attuale. Allora eccoci qua, allora vedi che andiamo qua in cima, clicchiamo La. Io partirei con un bel La maggiore, lo clicco e me lo porto qua. Sentiamo il La maggiore, ok? Che suono A. Eccoci qua, senti come è maggiore. Come vedi, adesso ti faccio lo zoom, devi mutare il Mi grave o non suonandolo col plettro o altrimenti fai leggermente sporgere il pollice da dietro e lo muti. Attenzione, se sei veramente all'inizio, far sporgere subito il pollice non è una cosa così sana, quindi direi di stare attento a non plettrarlo. Il La, quindi la quinta corda va a vuoto, che è la nota fondamentale. Senti la grave. Qui invece puoi fare con le tre dita, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, le note che queste ti troverai essere Mi, perché è il secondo tasto di Re, La, secondo tasto della corda di Sol e Do diesis, che è il secondo tasto della corda di Si. E questa corda invece, sempre questo pallino, significa che è a vuoto, quindi è di nuovo un Mi. Sgranalo prima di eseguirlo in strumming. Andiamo a sentire invece il minore, che come vedi, differisce veramente per poco, come c'è nel manuale. Vedi che c'è una regola armonica che dice che un accordo maggiore è fatto da prima, in questo caso fondamentale, terza maggiore, Do diesis, e quinta giusta, che è questo Mi o anche questo. In questo caso, qui l'accordo minore è, nota fondamentale, prima, terza minore, e quinta giusta. Eccoci, ecco, vedi che questi due accordi, La maggiore e La minore, differiscono soltanto per questo dito che è da Do diesis, quindi questo che è maggiore, va qui che diventa minore. A questo proposito puoi utilizzare qui le dita 1, 2 e 3, però quando vai a fare La minore, in realtà ti trovi ad avere 1, che diventa il Do, 2 e 3. Quindi in realtà sposti tutte le dita. C'è chi, per esempio anch'io mi trovo bene a farlo, lo faccio con 2, 3 e 4. Se devo fare minore, sposto soltanto un dito. Va bene, ma questo è un discorso già più avanti. Direttamente derivati da questi, vedi che se prendiamo La major 7, La settima maggiore è una quadriade, sono 4 note, e significa che oltre alla prima, la terza e la quinta, abbiamo La settima, che è maggiore. La settima maggiore dista soltanto mezzo tono dall'ottava, quindi dalla nota fondamentale. Vedi che se osservi questo, mi avvicino eh, se osservi questo e questo, vedi che cambia soltanto questa, che è una nota La, che qui diventa Sol diesis. Eccolo come suona. Senti che è abbastanza... Cambia soltanto una nota, ma senti quanto cambi l'accordo. Ok? Questo è Sol diesis. Dopodiché abbiamo minore settima, che quindi assomiglia invece molto a questa. Aspetta, guarda, faccio Close All e te li vado a riaprire in modo molto vicino e faccio La, La major 7, e così li puoi osservare qui. Poi ti faccio La minore, e la mettiamo qui, La minore settima. Eccoci qua. Ora, il La minore settima, vedi che ha una corda vuota in più. Questo è La minore. Semplicemente alzi il dito che è questo, il 3, lo alzi e lo senti. Ed è già La minore settima. Si può mettere anche il mignolino qui al terzo tasto sulla corda di Mi, che diventa la nota Sol. Ora, La settima, accordo di dominante, vedi che essendo un accordo maggiore lo mettiamo vicino a questi. Vedi che in realtà è ancora più semplice rispetto al La. Togli questo dito, che è il dito 2, oppure se l'hai fatto nell'altro sistema potrebbe essere il dito 3. Va bene, questo è La maggiore. La settima. Quindi, senti se facciamo scendere l'ottava, nota fondamentale, Major 7, settima. Pensa quante volte hai sentito anche questa progressione, no? Ecco che andiamo, adesso richiudiamo tutto e ti vado a prendere invece, sempre di La, il semi-diminuito e il diminuito. Sono abbastanza diversi da vedere qui in realtà è perché essendo con le corde a vuoto non si può abbassare un grado. Sarebbe molto più semplice quando vedrai anche su altri accordi, su Do, cose del genere, è più semplice, tanto sono le stesse posizioni. Quindi, l'asse mi-diminuito, sempre il Mi lo tiene stoppato, il La è a vuoto, Mi bemolle che è la quinta bemolle, Sol a vuoto che è la settima minore, Do che è la terza minore e il Mi acuto va stoppato. Diminuito. Questo implica che questa che è Fa diesis come nota, in realtà venga chiamata Sol bemolle perché è la settima diminuita. Ok, quindi questi qui sono, li abbiamo già visti, maggiore, minore, settima, Major 7, non è settima, sì, li abbiamo visti tutti. Ovviamente sai come al solito potresti usare l'Audioplayer per esercitarti su dei tempi di batteria, no? E sopra ci suono. Magari non con un semi di minuto. Ok, stop. Bene, quindi, eventualmente, oltre a venire qui, puoi venirmi a trovare sul mio Facebook, così ci scambiamo un po' di opinioni, sai dove trovarmi? Qui c'è ovviamente anche Twitter, puoi venirmi a trovare su Twitter, eccoci qua. Quindi qui dove mi vieni a trovare? Su YouTube, su MySpace, su YouTube già ci sei. MySpace, Truefire che è il sito statunitense, Facebook, Twitter, su Ping, niente, direi che non ti dovrebbe mancare nulla. Quindi detto questo, ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.